Derby ed emozioni con Lanciano e San Vito che si sono contesi la prima piazza nella regular season del Girone C regionale. A gioire sono stati gli ospiti in un confronto che si è deciso all'ultimo minuto di gioco. La BLS era chiamata a vincere con almeno 11 punti di scarto per poter avere la certezza di superare San Vito in caso di arrivo a pari punti. Al termine del Girone, di fronte a circa 600 spettatori con nutrita rappresentanza ospite, l'avvio dei padroni di casa è brillanti. Tanto da chiudere per 19 a 12. L'avvio della seconda frazione vede Lanciano allungare il passo, tanto che al quinto minuto il tabellone segna 27 a 16 ma la reazione degli Adriatici accorcia le distanze concludendo il tempo con soli due punti di distacco. Al rientro in campo il Lanciano prende di nuovo il largo in breve tempo grazie al solito liberatore che porta i frentani sul 36 a 29 ma i gialloblu vanno di nuovo in difficoltà. Flore e compagni non stanno a guardare e si riavvicinano fino a passare per la prima volta in vantaggio. Nell'ultima frazione la partita si gioca punto a punto con continui capovolgimenti di fronte. I frentani continuano a sbagliare molto mentre gli ospiti piazzano il canestro vincente a una manciata dei secondi dal fischio della sirena. Fa festa San Vito mentre il gialloblu non resta che riordinare le idee e cercare di vincere le ultime due partite sperando in un passo falso di Atri ora a pari punti.